Massimo Ceccherini gela tutti a Da Noi, da ruota libera. C'è grande attesa per scoprire il nome del vincitore degli Oscar 2024. L'Italia concorre con Io Capitano di Matteo Garrone candidato come miglior film straniero. E in trepidante attesa è anche Massimo Ceccherini tra gli sceneggiatori della pellicola. Ospite di Francesca Fialdini l'attore toscano ha commesso uno scivolone che ha fatto calare il silenzio in studio. Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone che ha fatto un film favoloso. Sappiate che il film della cinquina è più bello solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei. Il gelo è calato in studio e la Fialdini ha provato a cambiare argomento. Ma il comico nei primi dieci minuti ha preso di mira tutti, da Barbara D'Urso in lacrime a domenica in durante l'intervista che ha segnato il suo ritorno in tv fino ad Alberto Matano, di cui ha ammesso più volte di non sapere il nome. Poi torna serio e si concerta sul film di Garrone. Nella mia ignoranza su questi ragazzi li vedevamo sbarcare, morire ma mai parlare. Matteo ha attinto da varie storie. È gravissimo e inaccettabile, dichiarano Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma, e Walker Megnagi, presidente della Comunità Ebraica di Milano, che Massimo Ceccherini, candidato all'Oscar per la sceneggiatura di Io Capitano, abbia rilanciato a ruota libera su Rai 1 uno dei più tristi e abusati stereotipi antisemiti, sostenendo che il suo film merita di vincere ma non vincerà in quanto vinceranno gli ebrei, perché quelli vincono sempre. Affermazioni razziste come queste, aggiungono, non possono cadere nel silenzio, perché silenzio e indifferenza sono l'anticamera della violenza antisemita, inammissibili soprattutto sulla Rai. Per Disegni, Fadlun e Megnagi, si tratta dell'insolita allusione alle lobby ebraiche, concettualmente non diversa dalla propaganda che in qualsiasi stagione storica e a qualsiasi latitudine ha preceduto persecuzioni e violenze nei confronti delle nostre comunità. Ci auguriamo che la conduttrice, Francesca Fialdini, non abbia colto le parole pronunciate da Ceccherini solo perché stava formulando una seconda domanda. Se invece le avesse sentite e avesse deciso di non intervenire, sarebbe doppiamente grave. Affermazioni razziste come queste, concludono Disegni, Fadlun e Megnagi, non possono cadere nel silenzio, perché silenzio e indifferenza sono l'anticamera della violenza antisemita, inammissibili soprattutto sulla Rai. La replica La colpa è mia che sono un imbianchinò. Mi sono spiegato male, io intendevo il film degli ebrei, l'argomento, non è la prima volta che un film con quel tema vince. Posso chiedere scusa se qualcuno ha capito male. Massimo Ceccherini spiega così alla DN Kronos le sue parole nel corso di Il da noi. A ruota libera, durante il quale l'attore ha gelato lo studio con una battuta shock sulla vittoria degli ebrei agli Oscar perché vincono sempre loro. Io intendevo parlare di film, stavo giocando, stavo parlando di scommesse per scherzare e di film con quell'argomento, dice l'attore, che ha sceneggiato insieme a Garrone l'Io Capitanò, grande sconfitto in questa edizione degli Oscar, ma ammetto che forse se non dicevo niente era meglio. Chi mi ha sgridato più di tutti è mia moglie. E sulla sconfitta della pellicola su cui puntava l'Italia, aggiunge, un po' di delusione c'è, è naturale, dice Ceccherini, Io Capitanò rimane un film bellissimo, resta per me un sogno aver lavorato con un grandissimo regista come Garrone.